al via la diciannovesima puntata di mondo futsal la rassegna del calcio a 5 anche questa settimana abbiamo tante cose da raccontarvi a tra poco a a a a a a a a a Iniziamo questa nuova puntata accennando brevemente alla Serie A. Infatti la Axad Gruppo Latina non ha fatto troppa strada nella Final 8 di Coppa Italia. Il primo turno era proprio contro i padroni di casa Pescara che si sono imposti sui pontini e poi hanno finito per aggiudicarsi la vittoria finale ai rigori con l'Asti. E allora concentriamoci sulla Serie B, Girone E. Ottima vittoria interna per la Virtus Fondi. La compagine di Mr. Rosigna ha battuto col punteggio di 7-2 la Veldieboli. Nel prossimo turno i Rosso-Blu affronteranno in esterna il fananino di coda Campobasso che nell'ultima giornata ha vinto in casa dell'Alma Salerno. Ma vediamo la situazione di classifica. Al comando Capitolina Marconi a quota 41 seguita a 38 dall'Ardenza Ciampino e a 37 dall'Ido di Ostia e Orte. 33 punti per Feldieboli e la Virtus Fondi è a 28 con Virtus Palombare a 27, Iserni a 22, Brillante, Torrino 20, Città Carnevale Saviano 18, Alma Salerno 10, Campobasso che si avvicina a quota 9 punti. Ma andiamo a rivivere questa bella impresa di Fondi che come detto ha superato la Feldieboli, il servizio di Luca Figuccio gentilmente concesso da Fondi Salla. Fondi Salla 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 Grazie a tutti. 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 Per quanto riguarda la sfida United Aprilia e Atletico Marino, l'hanno seguita per noi Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcedo. Gustiamoci a tutti. Grazie 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 a tutti.